Ciao a tutti Bentornati sul nostro canale Innanzitutto rassicuriamo tutti che non è successo niente l'Anelli ha solo gli occhi rossi perché ha un po' di dermatite perché sembrerà un mini panda in questo video siamo qua per raccontare una seconda prova di gara ok quando è stata la seconda prova? il 16 febbraio 16 febbraio 2020 dov'era? a Rimini a Rimini e che gara era? la seconda prova regionale? individuale l'avevi fatta la prima prova? sì e com'era andata? ok eri arrivata? prima bene allora raccontiamo questa gara qual è stato il primissimo attrezzo che hai fatto? panico panico vabbè allora diciamo gli attrezzi così anche se non sono in ordine ok allora raccontiamo prima parallele com'è andata? bene non sono caduta perché la gara aveva messo elementi nuovi cosa avevi di elementi nuovi? solo la capovolta ok la capovolta e non sei caduta poi volteggio è andata bene? che salti hai fatto? ho fatto la rondata la rondata flick e la rondata con mezzo ok la tipo rondata ribaltata ok e qual è il salto che è andato meglio di tutti? non lo so tutti sono andati bene tutti bene ok 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 e cinghietti non ho dovuto ripetere elementi non ti sei fermata e avevi un esercizio nuovo anche a cinghietti cosa avevi di nuovo gli infilati spiega un po cosa sono per chi non lo sa diciamo tipo giri di pianta però con le gambe infilate dentro sia in avanti che in indietro no 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 Grazie a tutti 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 Ci vedremo nel prossimo video